Musica Buonasera, ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione. Tragedia in provincia di Padova. Una bambina di tre anni ha perso la vita ieri dopo essere caduta dentro ad un canale di scolo. Una tragedia immensa avvenuta in provincia di Padova a Roncaiette, una frazione di Ponte San Nicolò. La piccola era con la famiglia, doveva essere una domenica divertente e spensierata. Si trovavano in un'area verde per un picnic. Forse un attimo di disattenzione è stato fatale. La bambina si è allontanata ed è precipitata dentro al canale. Nonostante l'immediato intervento da parte dei presenti e la corsa disperata del padre, la bambina non ce l'ha fatta. Sul posto è intervenuto il 118. I sanitari l'hanno trasportata al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico, ma poco dopo è avvenuto il decesso. Sul posto, assieme al 118, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Piove di Sacco. E quello che è appena terminato è stato un weekend tragico sulle strade del Veneto. Ancora una volta purtroppo ci sono state delle vittime. Allora apriamo parlando con una tragedia della strada avvenuta a Maserà, in provincia di Padova, a perdere la vita una ragazza di 19 anni. Chiara Scantamburlo aveva solo 19 anni. La giovane donna di Sant'Elena d'Este, in provincia di Padova, è morta in uno scontro avvenuto tra la sua auto e un'altra macchina. L'ennesima tragedia della strada che ha strappato la vita una giovane donna. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Maserà, in provincia di Padova. Sul posto sono giunti numerosi soccorritori. Il personale del SUEM ha tentato la rianimazione a lungo, ma purtroppo i tentativi sono stati vani. L'incidente ha provocato delle lesioni mortali. Alla guida dell'altra auto, un uomo che è stato portato all'ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno eseguito i rilievi e dovranno ricostruire l'esatta dinamica del terribile schianto. E purtroppo il bilancio si è aggravato poche ore dopo questo incidente con un'altra tragedia della strada, questa volta avvenuta a piovi di sacco a perdere la vita un uomo di 44 anni. Gravissimo il bilancio di un altro incidente avvenuto sulle strade del Veneto. Lungo la provinciale 93, a piove di sacco, tra via Scardovari e via Vecellio, si sono scontrate due macchine. Nell'impatto ha perso la vita un uomo di 44 anni, Andrea Zinelli. Ferita la conducente dell'altra macchina, la donna è stata stabilizzata sul posto e poi trasferita all'ospedale. La strada è rimasta chiusa a lungo. La vittima viaggiava a bordo di una Fiat. Per portare all'esterno dell'auto il 44enne, sono intervenuti i vigili del fuoco. I sanitari hanno solo potuto constatare il decesso. Valentina Boscaro, la donna che ha ucciso il suo fidanzato, è stata condannata a 20 anni di carcere. La sentenza è arrivata oggi al termine del processo d'appello nell'Aula Bunkera Mestre. La sentenza conferma in primo grado, più o meno, con una differenza di qualche anno, ciò che era amerso in primo grado. Valentina è accusata della morte di Mattia Caruso. Omicidio avvenuto alle terme, mentre i fidanzati erano in automobile in un parcheggio. Proprio dentro quell'auto, Mattia Caruso era stato colpito da un coltello al petto. E adesso torniamo a parlare di un altro omicidio, quello di Giulia Cecchettin. Scioccanti le dichiarazioni diffuse in questi giorni sulle parole di Filippo Turetta. Sono agghiaccianti e irripetibili i dettagli emersi dalle dichiarazioni rese da Filippo Turetta, il trentenne che ha barbaramente ucciso Giulia Cecchettin. Parole che sono state diffuse dalla trasmissione quarto grado e ripetute da numerosi organi di stampa. Frasi che fanno rabbrevidire e che portano con sé tutto l'orrore di quella notte, a quanto pare senza un briciolo di pentimento. Frasi che mostrano la crudeltà criminale di un ragazzo che ha agito con la consapevolezza di quello che stava facendo. Filippo Turetta sarà in aula il 15 luglio. Un uomo senza tetto rimasto ferito nell'incendio di un garage è successo a Cavarzere in via Cavura. L'allarme è scattato nel cuore della notte quando alcune persone si sono accorte delle fiamme. Sul posto sono intervenuti numerosi vigili del fuoco e forze dell'ordine. Immediato l'arrivo anche del SUEM 118. I sanitari hanno trasportato il ferito all'ospedale. La causa di questo rogo è da ricostruire. E adesso parliamo del maltempo. Purtroppo le condizioni sembrano non migliorare. Anche le prossime ore saranno difficili dal punto di vista delle precipitazioni. Ma quello che è terminato è stato un weekend che ha provocato numerose frane e allagamenti in varie zone del Veneto. Ecco un resoconto. Il maltempo ha provocato delle grosse criticità in alcune zone del Veneto a causa di frane e allagamenti registrati in provincia di Belluno e in provincia di Vicenza. A Sopramonte, in provincia di Belluno, una massa di detriti ha improvvisamente invaso la strada regionale 50 tra Fonzaso e Predazzo. Problemi anche a Lamon sulla strada provinciale 40. All'alba di domenica sono entrati subito in azione i vigili del fuoco con i tecnici di Veneto Strade e Forze dell'Ordine. Un'altra frana di grosse dimensioni ha interessato l'area di Schio in provincia di Vicenza. La frana ha portato anche all'evacuazione di una famiglia per questioni di sicurezza. Il maltempo ha provocato numerosi danni anche nell'area montana tra Asiago e Gallio dove sono esondati due torrenti. Numerosi gli allagamenti nei due comuni. Sono state 60 le richieste di aiuto ai vigili del fuoco. Controlli e pattugliamenti straordinari a Vigonza in provincia di Padova dopo i recenti furti. Visti i tentativi e i furti andati a buon fine in queste notti, dice il sindaco, ha avuto un confronto con l'arma dei carabinieri e il comando della compagnia provinciale. Ha disposto una serie di controlli e pattugliamenti straordinari sul nostro territorio. Così il sindaco Gian Maria Boscaro commenta le notizie di nuovi episodi di furti e danni di concittadini. Stiamo verificando, aggiunge, anche le riprese registrate dalle telecamere di videosorveglianza e i varchi di lettura a targhe comunali per segnalare eventuali macchine con targhe sospette. Abbiamo notato, dice ancora il sindaco, che i ladri cercano di evitare proprio gli accessi stradali arrivando dalle campagne per non farsi riconoscere dalle telecamere. Quindi raccomando massima allerta per i proprietari di case isolate o con accesso da argini e campi. perché se le finestre o le porte vengono lasciate aperte come è successo nei furti andati a segno in queste sere i ladri ne approfittano per poi dileguarsi nelle campagne vicine. E adesso invece parliamo delle punture di zanzare e dei virus che sono aumentati negli ultimi anni. Per questo è importante proteggersi perché alcuni potrebbero rivelarsi anche fatali. Sono veramente di grande pericolosità. Ma sentiamo i dettagli in questo servizio. Contrastare le punture di zanzara è importante ai fini della prevenzione di malattie che potrebbero avere conseguenze gravissime. Negli ultimi anni i cambiamenti climatici e la globalizzazione hanno peggiorato la diffusione di virus trasmessi da zanzare infette. La maggior parte delle punture sono innocue ma alcune possono trasmettere malattie anche gravi chiamate arbovirosi. Le più diffuse sono la febbre del Nilo chiamata West Nile ma ce ne sono anche altre. Per questo è importante essere consapevoli dei rischi e prevenire le punture. Tutti dovremmo ricordarci di usare repellenti per la pelle, avere in casa zampironi o macchinette, se possibile, le zanzariere. Tra le buone pratiche anche quella di non avere acqua stagnante in terrazze o giardini. E adesso un'altra notizia. Ci spostiamo in provincia di Padova. Andiamo a corte di Piove di Sacco dove ieri sera alla Sagra erano presenti i Jukebox Boys di Arzer Grande, protagonisti per una serata di musica e solidarietà. I Jukebox Boys di Arzer Grande, protagonisti in una serata di musica e solidarietà alla Sagra del Bisatto a corte. Nato nel 2016, il gruppo ha un unico obiettivo, la solidarietà, mossa dall'amore per lo spettacolo, la musica e la voglia di condividere. I Jukebox Boys sono un gruppo di intrattenimento comico-musicale, formato da amici dell'area di Arzer Grande e dintorni, uniti dalla stessa passione e dalla volontà di fare qualcosa, che attraverso il divertimento unisca le forze per dare sostegno a tanti progetti solidali. Non a caso, lo spettacolo portato in scena si chiama musica, risate e solidarietà. Il ricavato delle manifestazioni del gruppo viene devoluto per intero all'AIL, sezione di Padova. I Jukebox Boys si esibiscono in playback, imitando cantanti prevalentemente anni Ottanta, simulandone le mosse ed evidenziandone le caratteristiche. Anche ieri sera tante le persone presenti che hanno assistito alla serata, condividendo dei momenti spensierati e divertenti, trasportati da grandi successi della musica. Ed ora diamo lo sguardo alle condizioni climatiche previste per le prossime ore sul Veneto. Tra la notte di lunedì e la serata di martedì frequenti precipitazioni, anche a carattere di rovescio occasionale temporale, specie sulle zone centro-meridionali della regione, dove i quantitativi complessivi potranno risultare anche consistenti. Dunque raccomandiamo, come sempre, anche la massima prudenza. Siamo arrivati al termine di questa edizione del Telegiornale. Io ringrazio tutti voi per l'attenzione e vi do la rivederci al prossimo appuntamento.